Era una vittoria importante perché fa morale, non veniamo da un periodo brillantissimo quindi sicuramente erano importanti questi due punti contro una squadra sicuramente in crescita. Adesso andiamo a riga e cerchiamo di ottenere la nostra prima vittoria in trasferta. Grazie a tutti i tifosi per averci sostenuto questa sera e ci vediamo poi qua il 21 quando giocheremo contro Vigarano. Ciao a tutti! Grazie!